programma realizzato in collaborazione con abbiamo scelto la tecnologia per questo garantiamo i risultati dei nostri interventi carrozzeria Zucconi veloci affidabili e convenienti grazie all'arco d'essicazione che riduce tempi e costi carrozzeria Zucconi a Mantova in via maestri del lavoro Poli Sport distributore di articoli sportivi tecnici produce le scarpe da calcio VPS in vera pelle e fatte su misura risolvono problemi di vesciche talloniti e tendiniti possibilità di personalizzazione con scritte e colori a vostra scelta vieni a provarle da Poli Sport a Mantova Banca Monte dei Paschi di Siena Buonasera amici sportivi calcio mania puntata numero 25 della stagione dunque anche il numero e l'avanzamento cronologico dice che i verdetti si avvicinano molto si avvicinano il fine di stagione come dire è in dirittura d'arrivo si intravede in molti campionati e verdetti non arrivano ma ne arriveranno a brevissimo con me per analizzare tutto il panorama come ogni settimana c'è Giacomo Lasagna eccolo ciao Matteo bentrovati buonasera con noi un parterre che cercherà di essere il più eterogeneo possibile quindi di farvi arrivare a casa molte situazioni che tra dilettanti e giovani in queste settimane si paleseranno e andranno a concretizzarsi do il benvenuto torno a trovarci dopo un anno alla presidente dello Sporting Club Davis Cavagna ciao Davis salve buonasera a tutti che oltre a essere il patroni di una delle più importanti squadre della provincia è anche colui che avrà in dote e lo parleremo in questa puntata della nuova edizione del memoria all'eso tutta a goito naturalmente che sarà affiancata da le chiusure delle coppe Leali e Ferrari ne parliamo più tardi adesso do il benvenuto ad Andrea Gabi giornalista della Gazzetta di Mantua ciao Andrea buonasera a tutti ciao con lui analizzeremo dal Castiglione sino alla terza categoria chi è promosso chi è bocciato oggi voglio delle sentenze Mario Ganda benvenuto vice delegato della Lega Nazionale Direttanti di Mantua ciao Mario ciao a te saluti a tutti gli sportivi allora bando alle chiacchiere apriamo con i gol partiamo con la partita che chiamava il Castiglione alla reazione alla riscossa dopo un passaggio a vuoto che ci poteva stare era atteso l'undici di Del Piano sul campo del fanerino di coda Montichiari non poteva sbagliare vediamo com'è andata la vittoria è arrivata e a questo punto del campionato conta solo questo la prima della classe Castiglione ha fatto suo il derby contro i Montichiari in trasferta un testa coda che stava per nascondere tante insidie ma che per fortuna è andato via liscio grazie alla bella prestazione di Bignotti autore di una doppietta il match è stato vibrante con il Castiglione superiore ma con un Montichiari che ha dimostrato di non valere la classifica attuale il primo sussulto del match è giunto al decimo con il gol di Bignotti il quale ha chiuso una bella azione partita da Cazzamani e Cristofori dopo una prima parte del match nelle mani del Rosso Blu con alcune reti clamorosamente sfiorate sembrava tutto fatto ma nella represa un gol di Zanoni era aperto il match mettendo seriamente in difficoltà il rendimento degli Aloesiani per fortuna c'è stata la reazione di Cristofori che al 35esimo ha propiziato il gol del vantaggio con una conclusione deviata da Viola sul quale si è piombato Bignotti per la rete del 2-1 il gol ha rimesso le gerarchie in ordine e nel finale un fallo su Cristofori ha lasciato spazio alla rete del 3-1 realizzata dallo stesso bomber Rosso Blu mercoledì ci ritorna in campo e il Castiglione affronterà a Lusetti il caravaggio dell'ex tecnico Crotti prima del difficilissimo match di domenica contro il Lecco in trasferta prima di analizzare anche il turno infrasettimanale che ormai è tra pochissime ore in calendario andiamo a vedere con Giacomo quella che è la situazione del Castiglione e poi introduciamo anche la classifica Giacomo era come dire un match da non sbagliare si arrivava da all'improvviso una rivoluzione della classifica che ha portato il Castiglione ad avere il fiato sul collo contemporaneo di Lecco e di Seregno qui si doveva vincere, si è vinto ma diciamo che è un primo tassello di un mini campionato che adesso si apre esatto, è un ciclo importante, terribile perché comunque questi impegni ravvicinati possono talvolta costituire anche una trappola però come possiamo vedere anche dalla classifica il Castiglione non può più sbagliare ha il fiato sul collo non di una squadra sola ma di due però ha anche un vantaggio che comunque continua a conservare due punti può essere tanto, può essere poco ma comunque è abbastanza delle tre sicuramente quello che ha il calendario più complesso in queste ultime giornate è il Seregno secondo me che tra l'altro sarà l'ultimo avversario del Castiglione prima magari della, forse speriamo, della festa del Castiglione la festa del Castiglione esatto per la Lega Pro è stata una partita comunque giocata molto bene dominata salvo il gol del Montichiari insomma si è visto, i Bresciani sono visti pochi tra l'altro Matteo Montichiari che è il primo verdetto mi pare dell'anno è ufficialmente retrocesso ormai era già da tempo che insomma la classifica diceva che era nell'aria esatto però è il primo verdetto ufficiale della stagione una prestazione convincente che lascia ben sperare in vista del turno di domani contro un Caravaggio che si è complicato un po' la vita in queste ultime giornate perché ad esempio domenica vinceva alla fine del primo tempo contro il Seregno poi è stato sconfitto per 2-1 e lo vediamo un po' lo vediamo in una posizione non propriamente invidiabile proprio al zona off limits diciamo così, zona rosa assolutamente, il Castiglione non avrà un avversario morbido nel turno di domani passo indietro però va detto che la Castellana ha riposato ne parliamo fra poco ma la sua situazione classifica purtroppo non cambia perché è segnata da qualche settimana chiedevo invece ad Andrea Gabbi è un particolarissimo finale di campionato perché queste tre squadre si affronteranno Castiglione, Seregno e Lecco tutte e tre quindi c'è un tre delle otto giornate vedranno uno scontro diretto al vertice il primo sarà proprio domani Lecco e Seregno una di fronte all'altra il Castiglione cosa deve sperare? Due feriti o un morto? No, deve sperare un morto assolutamente perché se no non esce perché il Castiglione ha una spada di Damocle da affrontare che è il riposo dell'ultima giornata che rischia di diventare un problema incredibile perché dipende tutto da come si arriva alla penultima dove tra l'altro arriverà il Seregno a Castiglione il problema del Castiglione secondo me in questo momento è una squadra che deve appoggiarsi per forza di cose ad alcuni uomini chiave e in questo momento mi sembra che ce ne sia soltanto uno di questi uomini chiave che abbia capito questo meccanismo che è Cristofoli Cristofoli domenica a Montichiari in una situazione molto complicata perché solo 1-1 il Castiglione ha traballato ha cambiato marcia e ha fatto fare il gol a Bignotti del 2-1 si è preoccupato il rigore e l'ha trasformato del 3-1 non può farlo da solo tutto secondo me soprattutto centrocampo ne dico due Mastrototoro e Lombardi devono cominciare a prendere per mano la squadra e a dargli un po' più di respiro perché se psicologicamente in questo momento le cose non stanno funzionando benissimo cioè il Castiglione non ha la forza di affrontare anche gli avversari di rango inferiore deve arrivare qualcosa di più e quel qualcosa di più deve arrivare dagli uomini diciamo simbolo tra virgolette sempre partendo dal presupposto che il Castiglione non è una squadra che era stata costruita per vincere ma è una squadra costruita per fare un ottimo campionato però arrivati qui deve ovviamente giocarsela fino all'ultimo assolutamente ma capite aggiungerei che forse è quello in grado con Cristofoli di fare la differenza nell'azione personale nell'uno contro uno nell'eccezionalità del gioco e dell'essere in campo va detto Giacomo che nelle ultime settimane Maccabiti e Cristofoli funzionano spesso assieme la però magari dove la squadra ha un attimo di ossigeno rarefatto devono anche singolarmente farsi sentire sì senz'altro perché le qualità le hanno Maccabiti era partito molto bene ha fatto tra l'altro dei gol formidabili subito all'inizio Villa Franca quando se le ha portate avanti col tacco e poi ha segnato sotto la traversa poi insomma è stato sempre abbastanza altalenante è vero che è un infortunio abbastanza pesante da affrontare là in qualche modo un po' l'ha frenato ma è anche vero che da uno come lui ci si aspetta sicuramente tanto ed è giusto è lecito a tenderselo Lecco più in forma del seregno Andrea Lecco è la squadra da battere in questo momento è la squadra che ha il calendario migliore perché per una che rincorre avere tutti gli scontri diretti da affrontare è fondamentale tra cui in casa col Castiglione in casa col Castiglione domenica sarà la partita della morte per loro e lo sarà anche per il Castiglione il Castiglione deve andare a giocarsela veramente con l'Elmetto soprattutto là perché là non è semplice giocare è una piazza particolare abbiamo visto qualche settimana fa poi vado anche da Mario Ganda la Castellana che là a Lecco si giocava molto molte delle residue speranze play out buttare quasi tutto al vento per un errore veramente di ingenuità incredibile è un passaggio interno di un difensore esterno al centrale che invece di buttare fuori la palla con Mazzalio un giocatore a terra della Castellana comunque non so se era forse Manarin a terra doveva calciar fuori Mazzalio a terra Catalano e Mariani che hanno incischiato però è stata derubata la Castellana a Lecco su quell'episodio però anche molta ingenuità sì quello sì però è stata derubata perché nel secondo tempo la Castellana c'erano due rigori enormi inondati perché comunque la pressione la pressione c'è a Lecco è una piazza un po' particolare è lo stadio vero è difficile e questo si sa c'è in Serie A ma c'è anche in Serie D è difficile dare un calcio di rigore a una squadra che obiettivamente ha ancora poco da chiedere a questo campionato Mario Ganda una squadra che guarda la Lega Pro una che forzatamente non può che guardare all'eccellenza siamo troppo spessimisti sulla Castellana la Castellana mi spiace moltissimo per questa annata storta che ha incrociato facendo un parallelo con l'anno scorso la classifica era ben diversa in questo periodo certo gli entusiasmi erano diversi ecco però sicuramente loro sanno bellissimo i giocatori che sono in campo la direzione i tecnici che non bisogna mai mollare fino all'ultimo fino all'ultima gara fino a che l'arbitro non fischia il triplice fischio che sancisse il risultato bisogna dare 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 il massimo poi se ci sono delle squadre che riescono ad ottenere di più ecco mi spiace che perda questa posizione a livello importante per la provincia di Manto dopo 8 anni consecutivi 10 consecutivi con questo perdona Andrea grazie la va detto lo sguardo la forzata visuale deve essere quella anche di chiedere il ripescaggio Pederzani non l'ha escluso però con questa posizione classifica tutto è più complicato andiamo a vedere un'altra squadra che non se la passa bene poi andiamo in pubblicità fra pochissimo è l'Asola con la classifica che ci fa vedere come qui la psicologia conti molto forse più di altre analisi tecnico-tattiche l'Asola butta via per l'ennesima volta una partita chiave la butta via in malo modo non chiudendo in 11 uomini contro 11 il match è come dire una litania che si va riproponendo Asola che per i nervi o per magari un po' di rabbia all'interno del match butta un'occasione c'è lo ricordiamo un recupero ancora in calendario con l'Orceana che è la prima squadra sulla quale deve puntare l'Asola ma questa classifica oggi fa paura Giacomo Sì dicevi bene prima l'Asola non è la prima che butta anzi è soprattutto l'ennesima partita che butta nei primi minuti perché quando ti trovi un rigore contro e un uomo in meno dopo una decina di minuti è veramente dura reagire adesso mancano 5 partite se non sbaglio sono 11 punti da recuperare quindi è una montagna da scalare è una missione praticamente impossibile come diceva però prima Mario insomma l'importante è crederci fino alla fine dare il massimo adesso domenica arriverà il Castagnato che ricordiamo l'Asola lo batte già all'andata fu la prima squadra che nel senso fu la prima vittoria ottenuta in questo campionato all'Asola e speriamo veramente che possa risollevarsi anche se la vedo molto molto dura perché oltre a recuperare la classifica difetta anche di uomini in questo periodo molti assenti per stare nei play out lo ricordiamo anche ai telespettatori a casa l'Asola deve fare da qui a fine campionato 4 punti più dell'Orsa Trismoca attualmente quindi ricucire il gap sotto i 7 qui siamo a 11 quindi la tematica è complessa Davies c'è speranza? ma io penso di sì il calcio a volte è strano e quindi come diceva Mario prima mai mollare l'importante soprattutto in questi casi è l'unione del gruppo e appunto evitare ho visto anche che nella partita di domenica un certo nervosismo c'è stato anche un espulso magari anche che non era meritato da come leggevo però evitare appunto tenere ben i nervi saldi perché comunque fanno la differenza in questi casi Andrea un po' di più di ottimismo del mio sull'Asola? no ne ho poco perché me lo dicono c'è gli scontri diretti questo è il problema dell'Asola il Palazzolo cioè ricordiamoci che l'Asola ha perso col Palazzolo l'andata c'è una squadra di ragazzini messa in campo quasi per caso e ora col Villongo col Cavenago purtroppo ha perso tutti gli scontri diretti è questo che mi dà un po' di titubanza sulle possibilità poi è chiaro qualcosa in quel gruppo lì c'è cioè non è una squadra a caso l'Asola può stare più in eccellenza di quanto la Castellana possa stare in questa D quello va detto sì un po' di più facendo questo ragionamento sì però la difficoltà la classifica Mario Ganda la tua opinione su questa classifica mai dire mai mai dire mai persone giocatori come Zampedri devono vuoli forse vuoli mancato in questa stagione devono devono stare con i nervi salvi non sprecare il fiato risparmiarlo per correre e non per criticare l'atteggiamento dell'arbitro in campo una percentuale Giacomo di permanenza o meglio di acciuffo dei play out dell'Asola sul 30 30% speriamo che magari tra i recuperi e le prossime partite senz'altro si rialzino pubblicità poi momento del Sporting Club tra poco ma prima la DAC tra poco eccoci nuovamente a Calciomania pronti ad affrontare il capitolo di promozione quello che va detto ci fa più sorridere da inizio stagione con le mantovane che vanno bene continuano ad andare bene due vittorie un pareggio anche questa settimana la DAC vince in rimonta a Lumezzane vediamo come andate a Lumezzane splende la DAC 3 a 1 in rimonta che stende il Valgobbia Zanano e lo fa con mezza squadra ai box indisponibili infatti Ayub Capitan Vicenzi Omorege e Magro i Bresciani passano in vantaggio sul calcio di rigore al quarto d'ora Barbieri trafigge Loschi ma la reazione della DAC è vehemente in 25 minuti i ragazzi di Goldoni ribaltano il risultato Luca Brondolin dopo due anni di astinenza torna al gol e pareggia i conti al minuto 37 tre giri d'orologio Dervisci mette la freccia e sigla e sorpasso Ostiglia Paldetti ancora lui al decimo gol stagionale chiude i conti in avvio di secondo tempo con la zampata che significa 3 a 1 e vetta ancora alla portata non c'è però tempo da perdere subito testa all'infrasettimanale a Ostiglia arriva il calcinato La DAC si conferma veramente squadra tosta perché sa reagire alle difficoltà avevamo sentito anche nel servizio non era la squadra al completo anzi veramente grosse importanti le assenze in tutti i reparti e invece va sotto reagisce domina e vince classifica poi analizziamo con tutti gli ospiti i momenti delle tre mantovane la DAC e la governolese se la giocano e questa è credo il dato più importante se la giocano fino all'ultima giornata col Vobarno per andare in eccellenza c'è anche qua uno scontro diretto Giacomo che sarà determinante all'ultima partita Vobarno governolese quindi tutto in gioco fino alla fine governolese che vince ancora in 1 a 0 esterno Storti si conferma in un ottimo momento il mister e la squadra Castedario pareggia partiamo dalle due bellissime notizie DAC va a gonfievere e la governolese forse è la più in forma si allora per quanto riguarda la parte alta direi che la DAC è sicuramente avvantaggiata secondo me se vogliamo vederla in ottica in ottica promozione rispetto alla rispetto alla governolese è anche vero che però deve ridurre il gap insomma è vero che la governolese gioca a Vobarno l'ultima giornata ma per ricordiamo che il Vobarno battuto la DAC a ritorno quindi ecco in questo caso dovrebbe recuperare qualche punticino è anche vero che se la governolese vuole ambire un qualcosa di più deve iniziare a vincere in casa perché in casa stenta molto fuori casa invece va a gonfievele domani tra l'altro ci sarà il turno infrasettimanale in casa del Real Sant'Eufemia penultimo quindi l'occasione veramente veramente ghiotta DAC invece che affronterà il calcinato alta formazione da prendere con le pinze però insomma penso che sia ormai abbastanza livellata alla fine saranno proprio le ultime cioè queste quattro formazioni qui DAC governolese bedizzolese verolese che andranno in playoff Casteldario invece diceva giustamente Corgi per quanto riguarda la parte destra della classifica ha pareggiato in casa il Borgo Satola l'ultimo in classifica e se vuole salvarsi senza patemi è costretto anche a fare punti con le cosiddette piccole Casteldario appunto è ognuno ha il suo gap il suo gap in questa stagione governolese al vicini che non è proprio storica questa defiance reiterata dall'altra parte Casteldario va benissimo con le grandi infatti ha battuto governolese tra le altre ma anche molte delle contenenti per i playoff va male con le piccole parto con Andrea Gabbi sulle chance a tuo giudizio di vedere il primo posto mantovano serve un mezzo passo falso al di là dello scontro diretto con la governolese del Vobarno o quello è ovvio lì è il rush finale che potrebbe dire bene alle mantovane perché sono dietro adesso e quindi ora è più facile rincorrere che non tenere il passo davanti in questo momento se fossimo stati magari un mese dopo sarebbe stato un po' più complicato perché comunque lì i punti scottano un po' di più adesso o rincorrere forse è meglio la governolese ha ragione Giacomo cioè se non comincia a fare punti veri in casa non ce la fa perché se no l'anno prossimo sortire gioco tutto in trasferta e vince il campionato a dicembre assolutamente anche perché ne ha tre vado a memoria tre delle prossime quattro giocherà in casa tolto il Real Centroferme quindi è ovvio è forzato a dover cambiare la rotta vedendo un'ottica positiva secondo me è adesso il momento di dimostrare che non è un problema giocare in casa vabbè è un campo piccolo è un campo particolare eccetera però lo è da non so cent'anni più o meno la governolese siamo 94 ecco quindi un nome come Cristofoli deve prendersi sulle spalle lo sta facendo con i suoi 17 gol il Castiglione dall'inizio della stagione però la governolese chi è che deve seguire Avanzini o c'è una persona di riferimento secondo te non c'è secondo me nel senso che lì si è creato quest'anno il gruppo alla fine perché è stato rivoluzionato per la quarta volta di fila nel giro di due anni per cui è una questione di unità è una questione di testa comune sì Avanzini è un giocatore che adesso anche con i campi non pesanti può fare la differenza perché può inventarsi la giocata può fare il gol su punizione eccetera c'hai De Freitas c'è Salardi insomma ce ne sono i giocatori di qualità Mario Ganda parliamo di una pagina meravigliosa la DAC che non ha forse buttato via soldi quest'anno in chimere di mercato si è installata però da non immediata avvio di stagione ma dopo un terzo di stagione in quella zona altissima di campionato e non l'ha più abbandonata vuol dire che il gruppo c'è che il gruppo tiene e se mancano i senatori non fanno rimpiangere i giovani che ci sono dietro domenica guardando la formazione che c'era in campo da Santermosi a Cavaleri c'erano dei ragazzi di 17 18 anni Gobbi ho visto che in formazione c'erano 5 ragazzi che sono passati dalle nostre rappresentative quindi non sono andati ad acquistare da Real Madrid per dire ma hanno acquistato nei paesi vicini in casa e i ragazzi che sono scesi in campo hanno dimostrato di farsi valere di essere pronti pronti in qualsiasi momento quindi io alla Dac do molte chance certo non ha tutto il destino nelle proprie mani quello lo diciamo però insomma se la giocherà se la giocherà è un po' quello che aveva fatto con grande successo la prima governolese in promozione guardare in casa giovani azzeccati ovviamente perché Lasagna Paldetti Paldetti guarda caso adesso è determinante nella Dac con Goldoni che era l'anima della governolese in campo ora in panchina e infatti stessi nominativi non ci si sbaglia con quei nominativi assolutamente Casteldario Giacomo che diciamo ha tutte le chance di potersi salvare forse anche qui basta più cinismo più determinazione forse negli ultimi metri adesso bisogna guardare anche più gol più gol meno errore sottoporta ma anche se qui sono abbastanza ottimista nel senso che penso che il Casteldario alla fine ce la faccia conquistare la salvezza senza giocare i play out Davies Cavagna presidente dello Sporting Club in prima la promozione è un obiettivo in quanti anni pensiamo almeno in un paio d'anni è un obiettivo sì certo non ci nascondiamo visto siamo partiti dalla terza categoria seconda quindi è inutile nasconderci se se saremo bravi a stare con i piedi per terra non vedo il perché poi abbiamo anche un gruppo di giovani molto competitivi che vengono vengono su bene quindi bisogna anche arrivare con la prima squadra avere un buon palcoscenico diciamo le giovani stanno andando alla grande tutte buona parte veramente protagonista anche nel nel campionato regionale ne parliamo fra pochissimo adesso andiamo a vedere come se l'è cavata lo Sporting Club aveva di fronte il castello Ostiano a Goito ecco il servizio domenica perfetta con uno Sporting Club letale a dominare il castello Ostiano terreno di Goito in perfette condizioni Pirone in sacca la dodicesima rete stagionale porta avanti i mantovani di Marcello Pozzi al sedicesimo di gioco lo Sporting allora può impostare la partita che sognava contiene il castello Ostiano e pulisce negli spazi Guidi di sinistro capitalizza l'invito di Righetto e al cinquantacinquesimo è 2 a 0 per i Goitesi partita in ghiaccio ma la prestazione perfetta culmina nel finale di match Contesini neutralizza il calcio di rigore di Maradini e prima del triplice fischio c'è anche spazio per la doppietta di Guidi al quattordicesimo gol in campionato e nuovo capo cannoniere del girone Sporting Club ora a 38 punti la zona playoff margine del meno 10 permettendo è a 4 lunghezze gran parata di Contesini veramente complimenti al portiere dello Sporting guardiamo la classifica perché adesso bisogna capire se Davis Cavagna ha più rammarico o tutto sommato come l'ha definita fuori dai microfoni che i microfoni spenti è un anno sabbatico per le ambizioni quindi va bene così classifica poi vediamo il presidente come la digerisce allora Bighenzi ancora una volta già combattuta in poche settimane in due settimane da una mantovana però il San Lazzaro non ne approfitta era l'occasionissima era l'occasionissima sì poteva ridurre il vantaggio veramente a un punto invece addirittura è arrivata una sconfitta in casa contro il PSG per quanto riguarda le altre le altre formazioni notiamo con piacere che insomma ci sono tante mantovane nella zona che conta il San Lazzaro il Marmirolo il Curtatone che dopo 8 vittorie consecutie è stato sconfitto quindi sono tornati umani dalla bassa bresciana fa piacere che in queste settimane abbia ripreso un trend positivo anche il Gonzaga che insomma lo aveva un po' criticato durante la stagione perché col potenziale che aveva sicuramente poteva fare molto di più attenzione perché magari è difficile ma con la sconfitta del San Lazzaro la bassa bresciana che ha ridotto diciamo così il gap playoff chissà perché potrebbero anche disputarsi bisogna vedere anche alla fine quanti punti ci saranno insomma adesso sono tra la seconda e la quinta sono 9 e quindi è tutto ancora da vedere due settimane fa presidente Davis con il derby Mantovano Sporting e Gonzaga finito in un pareggio avevamo più o meno sentenziato che è un pareggio che buttava all'aria le ambizioni e le chance playoff di entrambe quanto meno perché come diceva Giacomo c'è sì ricucito il gap tra la quinta e la seconda ma riprendere la quinta non è facile lì si è giocato forse l'ultimo svincolo o c'è ancora la possibilità di rientrare ma noi a dire il vero siamo contenti così però veder la classifica resta il ramarico di quel mese di totale blackout che abbiamo avuto a livello di punti e solo aver fatto una vittoria un pareggio in quelle cinque partite adesso a quota 42 saremmo ancora in corsa comunque domenica ad esempio si scontrano le prime sei della classe sono tutti scontri diretti quindi vi leccate i baffi con il PSG che comunque ha vinto con il San Lazzaro domenica quindi non è sicuramente per noi sulla carta non è comunque un incontro facile vedremo noi adesso abbiamo cinque partite poi avremo anche il recupero con il Curtatone e poi avremo anche un altro sconto diretto con il San Lazzaro e quindi tutto ancora in gioco però noi ripeto siamo contenti così il nostro era un anno dove ambientarci in questa categoria perché comunque abbiamo fatto anni di esperienze in seconda la prima quanti playoff in seconda esatto e quindi anche a livello nostro di società vogliamo anche conoscere la categoria anche per in un futuro vedere come le pressioni stanno a zero zero quest'anno l'avevamo ribadito poi tutto quello che veniva era in più Pirone 12 gol Guidi 14 adesso non so se si potrà confermare l'attacco al completo per l'anno prossimo ma qui c'è buona parte di una struttura che può guardare la promozione sì questa e considerando anche questa è una coppia d'attacco veramente molto molto positiva due attaccanti veloci ma anche fisicamente dotati e veramente Guidi non è una sorpresa perché comunque fa la differenza anche in promozione e in prima ha confermato anche quest'anno e comunque pensando che quest'anno abbiamo perso alla sesta di andata uno delle perle del nostro mercato che era Michele Boschini per l'infortunio dei legamenti e quindi speriamo di averlo l'anno prossimo con noi forse è uno degli acquisti più importanti della stagione era quello che ci conferiva quantità e quantità primo ospite speriamo di rivederlo presto sui campi di gioco Andrea Gabbi la Vigenzi si può riprendere le ultime due settimane dicono che non è imbattibile irraggiungibile però adesso serve accelerare quantomeno la seconda e la terza San Lazzaro e Marmirola però hai perso sia San Lazzaro che Marmirola hanno perso due match ball incredibili perché non è che una prima della classe ti perde due partite di fida ogni volta soprattutto loro che hanno una squadra non so se avete visto un po' i nomi ma una squadra di pressione l'incao tra gli altri insomma gente che la promozione era masticata fino a 5 minuti fa quindi la vedo un po' complicata arrivare alla Vigenzi secondo me sulla prima categoria sarà interessante cioè sarà un bel banco di prova quest'anno quello del Curtatone perché ha fatto la stessa identica stagione dell'anno scorso cioè un'andata buona ma niente di eccezionale e poi un ritorno incredibile adesso lasciamo perdere che domenica ci sta che poi perdono dopo 8 vittore consecutive sono umani come diceva però molto probabilmente insomma a meno di un crollo andrà ai playoff e bisogna vedere l'anno scorso è andato ai playoff ha fatto una gran partita la semifinale o il primo turno poi dopo si è sciolta davanti alla DAC secondo me è un bel banco di prova per quella squadra c'erano anche 80 gradi a Ostiglia per pomeriggio va detto non c'è la DAC non c'è una squadra che come dire fino all'ultimo se l'è giocata per il primo posto quindi probabilmente la finale che auspichiamo Mantovana di playoff io la vedo equilibrata comunque comunque qualunque sia lo sarò di sicuro anche perché comunque adesso speriamo che Sporting o Gonzaga riescono a ricucire il gap e prendere il quinto posto è difficile comunque però insomma ci sono anche i recuperi che con gli infrasettimanali può succedere un po' di tutto scombino però attenzione perché anche la Bassa Bresciana è una bella squadra quindi non è così scontato che poi alla fine ce la faccia una Mantovana qualche ex Asola tra l'altro tanti ex Asola è un allenatore ex Acqua Negra io me lo auguro però insomma non sarà facilissimo Mario la tua visuale c'è più speranza che vada una al primo posto una Mantovana o che magari ci si possa pregustare una finale playoff Mantovana io penso che superare il Vigenzi non sia facile e quindi presumo in una in uno scontro fratricida ai playoff però insomma ogni tanto qualche bella finale playoff Mantovana ci sta è forse il culmine di una stagione per tutto il movimento come l'anno scorso Dax Portattone tra le altre stessa cosa magari ecco io preferrei vedere una finale in prima che in promozione in promozione c'è più chance che vada direttamente promossa con Mario magari analizziamo anche la fase più delicata della classifica che chiedo alla regia di rimandare in onda classifica che vede anche qualche Mantovana sportellare per non scendere in seconda Castellucchi in primis ma anche il Porto tra alti e bassi è ancora in pieno fango playoff adesso la regia sta cercando eccola che sta arrivando allora Castellucchio può sognare al massimo di entrare all'ultimo posto di playoff Mario Porto ha tutto per uscirne dai playoff sì e lì se la gioca io ho visto le ultime due partite tre partite del Castellucchio e vedo che se va in vantaggio non riesce a tenerlo sciupa molto davanti o si fa raggiungere negli ultimi minuti è difficile è difficile la situazione del Castellucchio seppur di pochi punti il Porto ha qualche punto in più e quindi ha delle chance in più insomma perché se con un recupero vince una partita insomma cambiano anche le cose in fondo la classifica anche lì non bisogna mollare non bisogna mollare perché a 25 ci sono due squadre che sono lì e a 29 c'è anche il Casar Romano che non può mollare Giacomo anche quello se molla si fa in mischiare se molla una partita è già in mischiare assolutamente Giacomo come le sintetizzi ma domenica il Porto ha perso una grande chance perché giocava in casa contro la Bagnolese mi pare quindi ha perso ha perso male 1-0 e il Castellucchio domenica andrà a Bagnolomella quindi l'ultima presumibilmente sarà l'ultima spiaggia è complicato secondo me almeno una purtroppo la vedremo nei play out sarebbe già se è una sarebbe già una buona notizia perché non sono due contemporaneamente a dover scendere adesso andiamo nel campionato Emiliano a Via Dana ringrazio anche Giuseppe Varotti Via Dana Real Panaro era uno scontro salvezza Via Dana poteva chiudere quasi i conti per una salvezza ormai vicina invece si è complicato la vita vediamo tutto dagli 11 metri il Via Dana passa su penalty il Real Panaro pareggia e ribalta poi il risultato sempre su calcio di rigore tre penalty scuot nel pomeriggio al comunale Bertolani di Via Dana il Real aveva disperata necessità di punti salvezza e il Via Dana sull'1-0 non ha la forza di chiudere i conti e la fame di punti del Panaro fa male è gioca il bomber via danese ad aprire le danze in avvio di ripresa al 46esimo su calcio di rigore Via Dana avanti ma gli Emiliani tra il 65esimo e il 70esimo con Zanini per due volte dal dischetto ribaltano il risultato e si rilanciano in zona salvezza episodio singolare nel secondo tempo con il direttore di gara costretto a cacciare il guardalinee dopo aver ricevuto contestazioni diffuse Viedana che ancora dovrà sudare molto per la matematica permanenza in prima prima di andare in pubblicità mi prendo due secondi perché il calcio di attentistico è un panorama meraviglioso di sensazioni di sacrifici poi ci sono anche qualche parabola un po' più eccentrica e eccezionale che sono quelle che arrivano dalle tribune qui abbiamo visto nel finale la causa e l'effetto gli insulti e l'arbitro che è costretto a espellere il guardalinee si vede solo nei campi di provincia io lo dico con sorriso però anche il guardalinee che insulta l'arbitro non è proprio il massimo pubblicità poi seconda e terza i giovani calciomania eccoci bentornati siamo alla seconda categoria che apriamo con la classifica e poi introduciamo anche una domanda che ci pone un nostro telespettatore da casa che sicuramente pone delle tematiche non attualissime e non banali classifica vediamo in sovraimpressione il Sarginesco che domina perché ormai è tutta la stagione che sta dominando il Suzara che cerca di riallungare sulle terze sulle inseguitrici e quindi quantomeno i playoff rimarranno in dubbio fino alla fine Giacomo sì anche se io dico più no che sì alla fine non si faranno non si faranno sarà molto dura con il Suzara che deve avere più di 10 punti dalla terza Robert Bellese Borgo Virgilio Kipper Piresa allora la domanda che introduciamo è questa che porta all'ultimo cambio in panchina è stato un esonero in questo frangente Bruschi che l'anno scorso ricordiamo portò la DAC poco fa celebrata in promozione dopo i playoff battendo con quel 4-0 il curtatone ora è stato esonerato dopo una stagione complicata dalla Pogese Elia ci scrive e ci va ad analizzare sono due tematiche che introduce una sul progetto Pogese quindi sull'opportunità giudicata da Elia non consona quantomeno di allontanare Bruschi un allenatore concreto ci scrive che stava portando avanti il progetto Pogese dall'altra in assoluto sulla etica mi viene da dire anche degli esoneri così anche numerosi e frequenti nel panorama dilettantistico parto da te Giacomo sulla Pogese nello specifico beh secondo me allora se si voleva dare un segnale chiaro si doveva fare già parecchio tempo parecchio tempo prima nel senso che se si guarda esclusivamente al risultato allora magari con la rosa che aveva a disposizione mister Bruschi sicuramente era lecito tendersi qualcosa di più è anche vero che noi non conosciamo le problematiche magari legate al campo una riflessione che faccio è quella conoscendo il mister l'anno scorso per quanto riguarda lo ricordiamo sulla panchina della DAC aveva costruito un gruppo la sua forza l'aveva costruita diciamo così sul gruppo quest'anno qualche difficoltà magari con qualche senatore difficile da gestire e soprattutto la Poggese quest'anno ha mancato un attaccante meglio c'era in casa che è Donnoli ma è stato sempre frenato da continui infortuni e quindi diciamo che questo mix ha contribuito sicuramente a far andare Maluccio la Poggese e ricordiamo che quali erano le ambizioni di inizio campionato la candidata si è massacrini a scuola e questo secondo me è stato un po' poi ovviamente si può discutere l'etica di tutto quanto però ovviamente se si guarda se si guarda il risultato se si guarda solo i risultati è anche condivisibile secondo me la scelta Andrea Gabbi Poggese la grande incompiuta di questa stagione partiamo da qua quello si lo dicono i numeri ci sta però di sbagliare una stagione capita secondo me l'errore è stato fatto a monte non tanto per Bruschi tanto per la squadra più che altro perché questa è una grande squadra di tante individualità probabilmente manca qualcosa a livello di amalgamo di gruppo sul discorso dell'etica possiamo stare qui mezz'ora a parlare non ne usciamo non ne usciamo secondo me dipende tutto da che idea c'è dietro la società cioè se una società a mire alte a un'impostazione passami il termine professionistico con molte virgolette ovviamente in questi ambiti è giusto che possa prendere delle decisioni di questo tipo ovviamente non adesso perché adesso ha ragione anche Giacomo c'è cosa lo butti via c'è cosa lo mandi via adesso non ha più senso però sì è chiaro che sta poco in piedi il discorso dell'esonero in una terza in una seconda categoria Mario come la pensi gli esoneri gli esoneri ci possono stare ma hanno preso una piega eccessiva a mio avviso per quello che riguarda soprattutto i dilettanti insomma poi a fine stagione così ecco non sono d'accordo su questi a far pagare a un allenatore a una persona sola se la squadra non non ha reagito nel modo dovuto può essere di peso da altre questioni però come si dice a pagare sempre l'allenatore anche se magari gli attaccanti davanti alla porta hanno sbagliato 9 volte su 10 il mirino è sempre in panchina quello sicuramente il presidente invece che abbiamo in studio Davis e Cavagna come la pensa ma a questo tu non sei un mangio allenatore no tutt'altro perché comunque ci vuole sempre una grande dose di pazienza con queste soprattutto se si vogliono se si vuole ambire a qualche risultato importante e poi bisogna anche curare la mentalità dei giocatori perché come nel caso Apogese ma nel caso nostro anche l'anno scorso giocatori di categorie superiore che vengono in categorie tipo seconda c'è sempre la tendenza a sottovalutare o sentirsi un po' superiore quindi devono calarsi effettivamente alla svelta in queste noi siamo stati molto altalenanti l'anno scorso soprattutto era uno dei problemi che avevamo riscontrato e a questo punto poi alla fine devo dire anche Sarginesco e Suzzara hanno già gli stessi punti che noi abbiamo vinto l'anno scorso il campionato quindi veramente per dire quest'anno si è anche alzato un po' l'asticella nel senso del rendimento e viene da dire anche sono capitate male le altre purtroppo perché oltre a Sarginesco c'è una seconda che va veramente gli è capitato il Sarginesco è un po' diverso la cosa si l'abbiamo già parlato anche di questo che insomma non è stata proprio trasparentissima la situazione societaria di Sarginesco dopo ricordiamo un anno fa era in promozione allora velocemente dal Pilule sulla terza categoria parto da Giacomo non abbiamo verdetti non li avremo ancora per un po' perché c'è molto equilibrio ma la tua favorita poi sentiamo anche i nostri ospiti per il girone A il B sono quattro squadre lo vedete in sovraimpressione le prime quattro in quattro punti quindi lì non ti chiedo gli esporti l'Olimpia o il Cameron Ponti nel girone A l'Olimpia ha anche molto margine quindi secondo me nel giro di qualche domenica potrebbe la matematica potrebbe diciamo così dare il verdetto togliamo il cappello davanti a Giovanni Lorè 30 gol nella Voltesi credo che possa battere anche il record di un l'ultimo oltre i 30 futbol dello Sporting grighetti 32 in seconda valgono un po' di più però insomma 30 in terza sono tantissimi si sono tantissimi comunque e mancano un po' di giornate il girone A Andrea la tua favorita l'Olimpia perché se lo merita Olimpia Olimpia senza 6 senza MA girone B a voi posso chiederlo chi può andare su diretta Andrea dice da tirare una monettina noi lo facciamo da mesi io ci ho rinunciato è un campionato bellissimo era un po' di tempo che non c'erano così tante squadre in lotta per il primo posto ce ne sono state delle belle sfide a due tipo l'anno scorso Iveco e Boca però a così tante a 4, 5 anzi potenzialmente nei playoff si va fino a 7 sì perché volendo la squadra più in forma incredibile è la sostinentese di lungo esatto che ha fatto 7 vittorie consecutive 37 punti in classifica e volendo può addirittura ricucire sui playoff che è una roba incredibile che ha chiuso l'andata non ricordo neanche quanti punti ma veramente poco poco sopra lunetta è un campionato bellissimo non lo so veramente non lo so ti astieni ti astieni Mario una no non mi azzardo perché anche perché durante la settimana ci sono dei recuperi che possono stravolgere la classifica esatto e questi recuperi ricordo che anche in seconda il Suzara ha una partita da recuperare e lì potrebbe ammazzare i playoff in quel frangente quindi i recuperi possono essere fatali o definitivi o mettere delle posizioni in chiaro ecco assolutamente Giacomo top 11 così acceleriamo verso le giovanili e il memoria all'eso di cui vi parliamo fra pochissimo eccola che arriva top 11 pomponesco in panchina mister Galatti sì perché ha fatto un ottimo lavoro secondo me e continua sta veramente facendo bene ha vinto anche domenica la grande per 3-0 quindi ricordiamo la situazione del pomponesco fino a un mesetto fa insomma era abbastanza precaria si è risollevato la grande in porta ho scelto Menotti e Lunetta che ha parato un rigore ha preso l'impossibile in casa della Malavicina è finita 1-1 poi Chiozzi e Mermirollo Caccavale Faglioni in gol e Brondolin primo gol stagionale ricordiamo per Brondolin della Dac a centrocampo Bellini e Cavriamponti Vignotti doppietta decisiva Erecchia anche questo un gol pesantissimo e davanti due terze categorie e una seconda con due triplette per Antonelli e Mori e Benedetti del Sarginisco non si offendano gli attaccanti ma qui è veramente difficile inserirli perché Guidi è rimasto fuori ma è tra i più in forma Lorea è rimasto fuori dal capocannoniere insomma ci sono 8 gol in 3 quindi vanno assolutamente applauditi anche i tre del tridente i top e flop vediamo chi va meno bene e chi non ci stava in quella tabella e dobbiamo metterla qui lo Sporting Club sì allora peraltro gol decisivo per il Marmirono in Casaviglietti ecco Guidi non è diciamo così rimasto fuori è tutto un contesto che va sta funzionando molto bene lo Sporting e Calò è il nesimo errore è il nesimo rigore parato del portiere della Don Bosco questa volta a Sermide e poi ovviamente è giusto inserire anche il Marmirono cosa ha combinato Rondelli ha sbagliato il rigore al 93esimo del Real Bagnolo adatto qui il Real Bagnolo anche se perde rimane sempre primo tanto lì non ne fa San Lazzaro che come dicevamo anche prima con Andrea Gabbi e i nostri ospiti ha buttato via l'occasionissima e pure il porto assolutamente come prima pronostici velocemente vediamo come è andata Giacomo mi sa che era dura sta settimana come è andata la tua i tuoi schemi eccoli stanno per arrivare chiedo alla regia di recuperarli non li mandiamo in onda come vuoi se vuoi non li mandiamo in onda c'è la pubblicità ci vediamo tra poco pubblicità ultima parte di Calcio Mania bentornati cari amici ecco i pronostici ve li avevamo in caldo eccoli pronti Giacomo Lasagna 0 su 4 ahiaia questa era difficile eccolo dalla regia segnalano che è verrolese è governolese meglio così la prossima volta mi giocherò tutte le doppi ma dai va bene ci sta Marmirolo ero ottimista non così tanto infieriscono a dovere dalla regia Giuseppe Verotti qui sbagliato completamente perché la roba l'ha vinto e Pievese Moglia insomma ti capiamo ti capiamo impossibile dato segnalo una chicca la Pievese il campo di Pievese di Corriano aveva la tribuna scoperchiata dal vento il Moglia ci aveva coperto questa è la terza categoria che ci piace adesso vediamo come Giacomo si gioca la prossima settimana con anche l'infrasettimanale quindi un po' misto frutta vediamo come è il tuo pronostico di questa settimana Ivano Bottura sta cercando eccola qui qui è dura qui è difficile Lecco Castiglione questa si gioca domenica intanto esatto è un po' insomma ma X Giacomo Lasagna Davis anche per me è un pareggio Andrea Temo 1 Temi 1 Mario Ganda spero fortemente Castiglione 2 diciamo 2 dai un po' di ottimismo che è 2 chiude il campionato Sante Ufeme Governonese si gioca domani domani sera questa se qui non è al vicino esatto la pressione di Donato Beretta e compagnia Andrea tua l'ha già detto lui il gioco fuori è fatta ma quasi non è anche da andarci anzi il tabellino ce l'hai già sceglita i marcatori Bagnolese Castellucchio prima categoria qui difficile ho scelto perché l'ultima spiaggia gli ho dato la doppia chance perché è veramente l'ultima occasione Davis diamo fiducia sì anche se su quel campo la Bagnolese gioca palla lunga con 3 punte Andrea sì spero anch'io nel Castellucchio dico anche così una nota mi piacerebbe questa è una cosa extra mantovana che Atletico e Bagnolese fossero nello stesso girone anche l'anno prossimo perché il derby tra di loro è uno spettacolo puro per il calcio direttante un po' governo lo bronco peggio l'anno scorso c'erano mille persone a vedere la partita questo è il calcio direttantistico che ci piace Mario Ganda il tuo pronostico io spero spero per la piazza per la dirigenza fortemente spero e voglio essere e voglio che sia proprio azzeccato un 2 Castellucchio anche perché Matteo sarebbe l'ennesima retrocessione a fila deve vincere quindi sì il Castellucchio lo diciamo era un'eccellenza non più tardi di 36 mesi fa credo a memoria Suzzar e Iveco Giacomo vedi la vendetta sì vedo il Suzzar favorito perché l'Iveco dopo un ottimo girone di andata ha fatto un maluccio nel ritorno vendetta ha sbagliato io perdonare la replica dell'andata no ha fatto un po' in difficoltà in questo girone di ritorno tra l'altro ha anche scivolato in una zona abbastanza pericolosa però vedo tecnicamente superiore Suzzar Suzzar e Iveco Davis Suzzar e Iveco vedo Suzzar chiude quasi i conti playoff allora Andrea spero Suzzar anche per la piazza più che altro perché merita seconda non c'entra niente Suzzar tutti Suzzar uno salutiamo gli amici dell'Iveco che ci seguono da casa velocemente adesso parliamo del Memorial L'Eso è la grande il grande finale stagione che a Goito coinvolgerà migliaia di giovani di ragazzi e sarà Davis contemporanea anche perché non avete voglia di prendervi le fere fino ad agosto alle ali e al Ferrari Sì quest'anno siamo giunti alla quattordicesima edizione e comunque un grande ringraziamento a Paolo Andreoli e Massimo Rebecchi che da anni e al patron l'ex patron Lori Sleso che hanno praticamente creato questo evento che ormai ha carattere regionale assolutamente anche dal Veneto molte squadre spesso quest'anno ad esempio solo alcuni numeri dell'anno scorso con l'accorpamento dei Leali e Ferrari sono state circa 12.000 le persone che hanno visto le partite 1.500 atleti e 160 partite nel suo insieme quindi numeri importanti che ci inorgogliscono e mi preme anche dare atto a tutti i volontari che ci seguono tutte le mamme i genitori i dirigenti accompagnatori che senza loro senza il loro aiuto questo evento non sarebbe possibile quindi un grazie appuntamento dal allora il 20 aprile ci sarà la presentazione con il sorteggio e i calendari stile champion esatto il 2 maggio ci sarà l'inaugurazione con la sfilata con la banda anche aeroplani spesso fate scorazzare sopra voi adesso stiamo arrestendo qualche sorpresa così le finali saranno il 6 giugno 6 le categorie impegnate 2 a 11 1 a 9 e 3 a 7 praticamente dai ragazzini dai 2002 al 2008 tutti insomma la meraviglia a Gorto va detto che 12 mila persone una squadra di Lega Pro anzi più squadre di Lega Pro in un anno non le vedo in uno stadio ma quello è un altro capitolo quindi 12 mila persone in un mese a Gorto è veramente un grande successo Andrea Gabi velocemente ti facciamo vedere un'altra immagine ti chiedo un commento chiedo alla regia di mandare in onda le ragazze della DAC ecco che arrivano sconfitte in casa qui siamo l'Uberto Mazza di Ostiglia dalle Bresciane del Mario Bettinzioli Bottigliero vicinissima al gol lo vediamo fra pochissimo che forse è una delle ragazze più in forma ti volevo chiedere questo movimento poi andiamo anche da Mario Ganda ha bisogno di incentivi è un tornare come dire dopo anni a visionare un mondo quindi è solo il primo anno di assestamento naturalmente la tua idea di questa nuova avventura è un'idea che mi sono fatto col tempo che ci si può puntare ed è una cosa molto importante per tutto il movimento calcistico mantovano io di queste ragazze ne ho conosciute un paio perché volevo un po' approfondire anche dal punto di vista giornalistico questa dimensione nuova della DAC e a me mi ha veramente stupito la passione di queste ragazze cioè il capitano solo per fare un esempio il capitano di questa squadra si chiama Lodi di cognome è di Castiglione Mantovano questa va a Ostiglia due volte a settimana più le partite che le fanno ovunque perché hanno Lodi Brescia, Milano Lodi, Piacenza questa è una passione incredibile di queste ragazze giù il cappello perché in alcuni ambiti direttantistici maschili non c'è la stessa passione aggiungiamo senza quel contributo economico che spesso qualche categoria di maschi ha e lì non hanno ovvio Mario Gand la federazione ci punta e molto sulle donne si stiamo lavorando e c'è uno staff che si sta dando da fare notevolmente tra l'altro ci sono due appuntamenti che sono il 29 marzo nella palestra comunale di Roverbella per le ragazze che non sono tesserate o che vogliono avvicinarsi al movimento femminile e un altro accorpamento ci sarà il 10 maggio al campo sportivo di Goito guarda caso non succede mai niente a Goito e quindi abbiamo cercato di coprire un po' tutta la provincia Revere la prima perché abbiamo fatto Revere c'è da dire che c'è un bel movimento appoggio rusco Stefano Gardona che stanno lavorando e per il futuro a Mantova sorgerà qualcosa di positivo perché ho sentito che il comitato regionale vuole fare una scuola di calcio femminile a Mantova e quindi si partirà il prossimo mese con qualche cosa di nuovo con un punto fisso che sarà qui vicino alla città dove raggrupperemo tutte le settimane con degli allenamenti le ragazze che vogliono avvicinarsi al calcio si semina insomma ci sarà poi il Mantova che sembra stia lavorando e stia dandosi da fare l'Atletico Mantova l'Atletico Mantova per costituire ha annunciato una squadra di seredi vediamo se poi la porterà sta lavorando tesserando contattando contattando anche quelle della DAC insomma diciamolo no è vero si 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 stanno lavorando e dandosi da fare quindi c'è un certo fermento non è così facile come sembra assolutamente perché abbiamo perso un treno ricordiamo che qui a Mantova eravamo arrivati con un sotto l'Emilia Romagna con un girone tutto mantovano dove avevano la squadra femminile la Bigarellese il Villimpenta ecco bisogna ricominciare da capo lo sta facendo la DAC bisogna ripartire onore alla DAC bisogna ripartire penso io modesto parere che è meglio cercare di attirare nuove ragazze piuttosto che andare a perdere quelle che ci sono da un'altra società però quello ne parleremo più avanti bisogna avvicinare al calcio le nuove leve esattamente quello che stiamo proponendo qualche risultato c'è alla lunga arriveranno chiudiamo con una bella pagina l'ultima di questa puntata che ci arriva da Asola ieri si è disputata una partita del tutto speciale eccola qui c'è anche il sindaco che dà la benedizione a questo momento calciatori e regbisti tutti assieme giovanili della Ciasola in notturna come vedete e del rugby Asola a giocare un tempo a calcio un tempo a rugby per dire no al razzismo per dire sì all'integrazione ci sono tre profughi gambiani e senegalesi distribuiti tra le calcio e il rugby insomma è una bellissima pagina che magari tira le orecchie a qualche giudizio un po' troppo veloce che arriva su quei ragazzi che in queste settimane in questi mesi vediamo ospitati a Mantova e provincia Giacomo ti saluto ma ti chiedo ovviamente un pronostico Real Bagnolo arriva dove? questa non ce l'avevamo preparato play-off sicuro play-off sicuro ok dai sì mi fermo secondo me vince la pievese pievese non me l'hai chiesto prima te lo dico io adesso se ecco così Levi Scavagna ti ringraziamo in bocca al lupo per il nemore all'eso e tutto quello che sarà il finale di stagione in quanti anni la promozione adesso devi dirmelo ci teniamola là tre anni tre anni programma triennale Andrea Gabi ti ringrazio in bocca al lupo per il nuovo nuova avventura anche in gazzetta grazie buona serata Castellano in quanto tempo la rivedremo in D la rivedremo penso non prima dei prossimi cinque o dieci anni bisogna avere pazienza bisogna avere pazienza non sarà una cosa semplice se va giù Mario a presto e le rappresentative dove arrivano qui bisogna sbilanciarsi se riusciamo a recuperare qualche uno degli infortunati io sono ottimista sul gruppo su entrambi allievi e giovanissimi purtroppo abbiamo perso tre giocatori essenziali per la squadra giovanissimi e speriamo che quelli che abbiamo convocato l'ultimo momento siano in grado di dare il massimo certo che dal punto di vista tecnico insomma abbiamo perso qualche punticino grazie a tutti Calciomani attorno a martedì adesso c'è il basket arrivederci programma realizzato in collaborazione con abbiamo scelto la tecnologia per questo garantiamo i risultati dei nostri interventi carrozzeria Zucconi veloci affidabili e convenienti grazie all'arco d'essicazione che riduce tempi e costi carrozzeria Zucconi a Mantova in via maestri del lavoro PoliSport distributore di articoli sportivi tecnici produce le scarpe da calcio VPS in vera pelle e fatte su misura risolvono problemi di vesciche talloniti e tendiniti possibilità di personalizzazione con scritte e colori a vostra scelta vieni a provarle da PoliSport a Mantova Banca Monte dei Paschi di Siena